Divisa che è composta da una serie di cose, intanto come potete vedere in particolare io porto gli stivali, vedete? Perché? Perché sono un motociclista, lo sono sempre stato, lo sono ancora e quindi a differenza degli altri colleghi che non sono motociclisti, io gli stivali e i pantaloni appositi per la motocicletta mentre i colleghi hanno i pantaloni lunghi con le scarpe normali poi abbiamo degli accessori che distinguono appunto la divisa, no? Per esempio, che vi faccio vedere, ecco questo qua, vedete questo aggeggio che si muove? Questo è lo strai al peperoncino, sapete che cos'è lo strai al peperoncino? Sì, è sempre per spruzzare Per spruzzare, perché abbiamo lo strai al peperoncino? Abbiamo tante altre cose, abbiamo anche lo strai perché ogni volta che veniamo in contatto con delle persone molto aggressive che non vogliono sentire ragioni Oh, sì! Sì!